Sì Eva, lo so, mi stai dando i bacini perché sei molto molto contenta come lo sono anch'io perché ci sono tantissimi amici che ci stanno sostenendo nella nostra campagna Giù le Zampe. Siamo arrivati ad oltre 100.000 firme e anche il mondo della politica si è mosso. Realaccia ha fatto un'interrogazione parlamentare, Anzaldi ha proposto un disegno di legge per fare in modo che voi, i nostri amici a quattro zampe, non siate più pignorabili. Ma dobbiamo ancora fare di più, convincete tutti i vostri amici ad andare su change.org per firmare, per dire giù le zampe dei nostri amici animali.